Educazione e la legalità economica a scuola con la Guardia di Finanza. E questo è il titolo del progetto che si è svolto nell'Istituto Comprensivo Serafini Stefano di Sulmona con le fiamme gialle e con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica. Questa iniziativa tra origine da un protocollo d'intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, finalizzato a promuovere un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. Lo scopo è quello di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica con particolare il riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché l'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti e di far conoscere inoltre la particolare e delicata attività che svolgono i finanziari addetti al soccorso in montagna. È stato così sviluppato un progetto Educazione alla legalità economica che anche per l'anno scolastico 2015-2016 prevede l'organizzazione a livello nazionale di incontri presso le scuole orientati a creare e diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria, affermare il messaggio della convivenza della legalità economica e finanziaria e stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del ruolo delicato rivestito dal corpo come organo di pulizia vicino a tutti i cittadini di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche. Gli studenti sono stati coinvolti in questa iniziativa anche grazie all'aiuto di un kit multimediale e hanno partecipato con interventi e domande sui casi pratici con particolare riferimento all'uso delle sostanze stupefacenti, un problema molto vicino agli studenti della scuola primaria e secondaria. Gli studenti si sono infine appassionati anche al soccorso in montagna.